Sono 16 le nuove guarigioni registrate ieri a Torre del Greco. Certificate anche 3 casi di positività al Covid-19, di cui uno solo in regime ospedaliero e di restanti posti in isolamento domiciliare. Muta dunque il bilancio dei contagi da Covid-19 nella città. Sono 30 i soggetti attualmente ricoverati, 294 posti in isolamento domiciliare, 2532 guariti totali dall'inizio della pandemia e 82 decessi. A Torre Annunziata sono 9 i nuovi casi di contagio da Covid-19 certificati nella giornata di ieri. Al contempo si registrano anche 12 guarigioni. Scende a 343 il numero di cittadini attualmente positivi, 333 posti in isolamento domiciliare e 10 ricoverati. Sala 1788 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1414 guarite e 31 decedute.